La rassegna stampa della Gazzetta del Mezzogiorno. Sosta selvaggia sul litorale, si usi l'area di acque chiare. Ad avanzare la proposta è stato il neoconsigliere comunale Giuseppe Miglietta. In questo fine settimana la strada provinciale 41 è stata ancora una volta invasa da migliaia di auto. Fucilate contro l'auto della madre del detenuto Maradona. Due colpi di fucile calibro 12 indirizzati all'auto della madre di Cosimo Giovanni Guarini, 34 anni, mesagnese, ritenuto esponente di spicco della SCU. Un avvertimento in perfetto stile mafioso. ANAS pronta per rendere sicura la statale 172. Entro il 13 agosto l'ANAS predisporrà il progetto definitivo per la messa in sicurezza della strada statale 172 nel tratto tra Fasano e Laureto. Lo ha annunciato l'assessore regionale Amati. Gli artigiani, il rigassificatore è necessario. La CLAI di Puglia e Basilicata non si unisce al coro di critiche sul parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale sulla Sicurezza del Rigassificatore della Brindisi LNG ed esprime invece preoccupazione per l'atteggiamento espresso dalle istituzioni locali e regionale. Nuovo arredo sul lungomare, poche le chianche in via di riutilizzo, riqualificazione del lungomare Regina Margherita, in fase di ricollocamento le vecchie caratteristiche chianche ma solo in minima parte. Il sindaco assicura che le altre pietre nere, laviche, saranno riutilizzate nel centro storico. ASL, controlli a tappeto in attività di ristorazione, controlli dell'ASL a Dostuni nel centro storico e lungo la costa, nelle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti. La società ora cerca il DS e nuovi soci e sponsor. Calcio, l'1 luglio francioso firmerà il contratto che lo legherà alla città Brindisi. Il suo incarico verrà ufficializzato nei prossimi giorni. L'Enel Basket Brindisi annuncerà i primi nomi. Chi ha avuto modo di parlargli ha confessato che Nicola Alberani, direttore sportivo del Forlì, sarebbe stato molto felice se Brindisi lo avesse invitato a lavorare accanto a Bucchi e Puglisi. Dalla società non trappela nulla. La rassegna stampa del quotidiano. Due colpi di fucile mistero colpita a mesagne la multipla della madre di Cosimo Guarini, arrestati nell'ultimo blitz antimafia. Due colpi di fucile nella notte. Sangue attorno all'auto, bruciata, incidente o attentato. Di mistero in mistero, la polizia scientifica e la squadra mobile indagano sull'incendio dell'auto di una donna. Attorno alla vettura distrutta dalle fiamme incontrada a Torre Mozza, sono state trovate vistose macchie di sangue. Undici metri di felicità, azzurri in semifinale, novanta minuti di dominio, poi i supplementari e quindi i rigori, battuta l'Inghilterra, ora la Germania, festa nelle piazze, una telefonata di Napolitano, che emozione. Sanità privata, rischiano il posto, duemila lavoratori, i tagli e le spese della regione, dopo la sanità pubblica, quella privata, i 300 posti letto che la regione dovrà tagliare nelle prossime settimane alle cliniche private accreditate per rispettare gli impegni assunti con il piano di rientro del disavanzo sanitario, potrebbero provocare il licenziamento di duemila lavoratori. All'interno, auto a fuoco macchiata di sangue, il mistero è giallo sulla Fiat Punto, parcheggiata al rione Sant'Angelo e ritrovata a Torre Mozza. L'indagine, lasciata dalla proprietaria sotto casa della figlia, all'alba arriva la telefonata ai pompieri. Per lei è shock. Fotovoltaico minacciato dalle fiamme, la piaga degli incendi non accenna a diminuire la piaga degli incendi che da qualche giorno a questa parte sta funestando il territorio. Grazie. 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 Grazie.